E voi gli sputafuoco, e voi i nuovi santi, crepate pure per primi, noi vi cediamo il passo, però per cortesia lasciate vivere gli altri, la vita è grosso modo il loro unico lusso. Contrariamente alle apparenze, no, questo non era un pezzo di Mayakovsky, solo di Di Andrè, Di Andrè che canta Morire per delle idee, un testo bellissimo che parla di sacrificio, morte, predicatori di morte, autoflagellanti, dispregiatori del corpo, Gesù Cristo, Socrate, sì, proprio di loro. Oggi vorrei parlare un pochettino di sacrificio, perché il sacrificio è un concetto molto strano che, nei secoli, grazie a belle scuole di pensiero, idealiste, cristiane, cattoliche, ha preso delle sfumature di un tossico, di un marcio, meravigliosi. Quindi, parliamo di sacrificio. Che cos'è il sacrificio? Il sacrificio è l'immolazione, il rendere qualcosa più importante di qualcos'altro, e dunque, quella cosa meno importante, sacrificabile, ovvero rinunciabile. Cos'è che può essere rinunciabile rispetto ad altro? Per esempio, un proprio piccolo vizio, una propria piccola abitudine, può essere rinunciabile, sacrificabile rispetto all'intento di essere amato da qualcuno, a cui quel piccolo vizio accidenti non piace. Può anche essere un sacrificio, per esempio, morire, morire in nome di qualche altro ideale di giustizia, gesta, integrità, eccetera, eccetera. Allora, noi, per quel che mi riguarda, poi mi sbaglierò sicuramente, ma per quel che mi riguarda, siamo padroni delle nostre vite. Dunque, nonostante io molto spesso non approvi, non apprezzi, non capisca, non condivida e non ritenga un bene certi martiri, certi sacrifici, Devo dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, va bene, se vuoi sacrificarti per una tua causa, per un tuo valore, una tua idea, fallo! Potrei anche considerarti un idiota, in certi casi, però sei libero, fallo, la vita è tua, va bene, pazienza. Magari cercherò di dissuaderti, magari te ne parlerò, però poi la decisione ultima è tua e sono fatti i tuoi della tua vita. Quelli con cui io ce l'ho sono proprio gli sputafuoco, i nuovi santi, e anzi, coloro che predicano il martirio lo predicano spesso, per 90 anni almeno. Ecco, esatto, sono proprio loro, quei simpaticoni che fanno retorica del sacrificio, retorica del martirio, che istigano al sacrificio. Ora, senza arrivare per forza agli esempi tragici della cultura, della comunità, della vita islamica, musulmana, in cui le persone vengono educate al sacrificio terroristico, alla guerra santa, quindi a sacrificare la propria vita in attentati suicidi terroristici per convertire il pagano occidente, senza arrivare a questi esempi tragici, basti pensare ai film. Hollywood propone una visione, chiaramente, occidentale, per la quale la patria, che tipicamente sono gli Stati Uniti d'America, i valori, che tipicamente sono la famiglia, il cristianesimo, la comunità, eccetera, eccetera, diventano degli ideali per i quali va più che bene morire, anzi, chi si sacrifica in loro nome è un eroe. C'è una narrazione epica, positiva, del sacrificio del martirio. Io, invece, sono fermamente convinto che la maggior parte dei sacrifici siano delle discrete idiozie. Detto ciò, tu, singolo individuo che ragioni con la tua testa e prendi liberamente le tue decisioni, puoi anche farlo, per quanto siano idiozie, abbiamo tutto il diritto di sbagliare, di commettere idiozie, ammesso che lo siano come io credo, ma ciò di cui non hai il diritto è istigare a questi gesti, è indottrinare a questa condotta, è convincere le persone a farlo. Perché l'istigazione al suicidio è un reato, l'istigazione al sacrificio è una virtù teologale a momenti, eh? No, non mi va bene, è un modello culturale che io aborrisco. Però bisogna distinguere tra sacrifici e sacrifici, ce ne sono di diversi tipi. Il sacrificio non è sempre un gesto che io ritengo futile, frevolo, sconclusionato. Ma partiamo dalle basi, partiamo da un assunto fondamentale. Io sono contro ogni metafisica, non penso che ci sia un'anima, non penso che ci siano dei valori o delle assiologie inscritte nel cosmo, io non penso che ci sia Dio, non penso che ci sia la vita dopo la morte. Indi per cui, chi si sacrifica pensando che esistano ontologicamente delle realtà di natura mistica, divina, trascendentale o metafisica che rendono giustizia di questo gesto, che lo rendono qualcosa di giusto, semplicemente non possono avere discorso con me, perché partiamo da presupposti diversi. È ovvio che se tu credi in una vita oltre la morte, in una reincarnazione, in un'anima, allora il tuo, per esempio, morire per una causa non è morire, rinunciare alla tua vita, ma rinunciare a uno stadio della vita, a una parte della vita, solo alla vita terrena, in nome di qualcos'altro di più alto. Se tu sei convinto che quel qualcos'altro ci sia, allora va bene, che ti devo dire? Vai, procedi, ammazzati, sparati, fatti esplodere in piazza, che ti devo dire? Non sono più affari miei, partiamo da presupposti troppo diversi. Se invece si ritiene, come me, che non vi siano queste realtà ontologiche e mistiche trascendenti a giustificare il sacrificio? No, vi prego, non ammazziamoci per le idee. Morire per delle idee, no? La cosa più amare che può succedere è di morire per delle idee che non hanno già più valore il giorno dopo. No, non c'è idea per la quale valga la pena morire. Ma da che base le idee cambiano? Cambiano a livello culturale, a livello sociale, cambiano a maggior ragione quelle di un individuo, ma che cosa vuol dire morire per una propria idea? Infatti il caso terribile, il caso peggiore di sacrificio è quello in nome della pura idea in sé. Di nuovo, torniamo tristemente agli islamici. Quando succedeva, ormai qualche anno fa, era frequente che degli assaltatori, dei terroristi islamici salissero su questi autobus di turisti, di persone venute dall'Occidente, facessero, li rapissero a tutti gli effetti, minacciandoli col mitra, col Kalashenkov, dicessero loro, rinuncia alla tua fede, convertiti all'Islam o muori. E le persone, certe persone, che si rifiutavano, si rifiutavano di cambiare la propria fede per, per, per cosa? E venivano ammazzate, uno viene ammazzato perché dice «No, io non crederò mai in Allah, Allah che schifo, io voglio credere in Dio, nel Dio degli eserciti, oh, mi piace di più!» Non c'è nulla di più importante della vita. Anche per avere fede, anche per avere qualsiasi altro tipo di conoscenza, per avere qualsiasi tipo di idea, bisogna essere in vita. La vita è il presupposto necessario per avere una fede, un'opinione, un valore, un'etica. Come si può immolare la vita all'etica, se l'etica dipende dalla vita? La priorità è netta, è chiara, la vita precede qualsiasi valore. Anche in un'ottica metafisica e divineggiante, la vita è stata data da Dio, la fede va trovata. Quindi conservate la vita, conservate, rendetela preziosa, fatene un buon uso della vita, non sprecatela, non vuol dire niente, diteli questo cavolo di terrorista, sì sì sì, perfetto, adesso sono musulmano quanto te, anche di più, più integralista. E salvatevi, Dio santo. A cosa serve morire per un'idea quando è solo l'idea? Basta l'idea senza repercussioni pratiche, perché dal tuo morire davanti a un terrorista fatto a pezzi da un Kalashnikov, senza aver però rinnegato il Dio, il Dio onnipotente, cristiano cattolico o quello ebraico, o qualunque altro Dio ti paia e piaccia, non ne ha tratto beneficio nessuno, solo te, ammesso e non concesso che l'anima e il paradiso esistano. Anche ammesso, tra l'altro, un altro discorso che non è affatto ovvio, sia che un Dio, un Dio benevolo, buono, comprensivo, empatico come quello cristiano, non capisca che uno può averlo rinnegato solo per finta, solo per salvarsi. Un Dio davvero buono, per quanto mi riguarda, dovrebbe capire questa dinamica e perdonarla, dire no, no, tranquillo, hai fatto bene a salvarti, ma figurati se ti punisco, non mi hai rinnegato, hai solo fatto finta di rinnegarmi per salvarti, cosa giustissima, hai fatto strabene. Bene, questo direbbe un vero Dio per quel che mi riguarda, ma capite che qui non si parla di Dio, ma si parla dell'idea di Dio, morire per delle idee, idee di Dio, di etica, di morale, di religione. Ecco, quando si tratta solo dell'idea, non ne guadagna nessuno, non ne guadagna in maniera intersoggettiva, oggettiva, misurabile, nessuno. Forse, secondo concezioni, quantomeno bizzarre come le religioni, forse chi si sacrifica, nessun altro. Quindi io non lo definirei un gran bene morale. Primo. Essendo poi la vita così indispensabile, bisogna riconoscere che anche le idee lo sono, però. Le idee, i valori, le idee che ci facciamo, le norme di comportamento che ci diamo, sono importanti, rendono in qualche modo integra, in qualche modo compatta la nostra vita, secondo delle condotte, dei comportamenti che ci paiono sensati, giusti, buoni, collaborativi, costruttivi, pacifici, diciamo tutto quello che ci pare. Va bene, va bene. Postarci dare importanza alle idee. Non alla sola idea, idea in sé, che non fa bene a nessuno prima della vita. Ci sono casi in cui l'idea però si ripercuote anche in comportamenti pratici, materiali, che effettivamente fanno bene anche agli altri. Allora, un giudice falcone, che per un ideale di giustizia, di stato, di nazione, di uguaglianza, per una serie di ideali, mette a rischio la propria vita. E sono sicuro che se gli avessero, anzi, avendolo visto minacciato molte volte i mafiosi, gli attentati alla villa, quella col sub, la dinamite, avendo subito diverse minacce, diversi ricatti, diversi attentati, lui avrebbe potuto decidere, sì, va bene, importante la giustizia, per carità, ma ci tengo anche la mia vita, quindi, va bene, la smetto, la smetto. Avrebbe potuto accedere a queste minacce, e non l'ha fatto. Ha messo a repentaglio la sua vita, che usava concretamente, tangibilmente, per lottare contro la mafia, per lottare contro le ingiustizie, contro tutto questo furto di denaro, contro queste violenze, omicidi, eccetera. Ha messo a repentaglio per un'idea, delle idee, per un assetto di valore, un assetto etico, ma un giudice Falcone, per me, è incommiabilissimo, è degno di tutto il rispetto del mondo, perché, uno, non si è gettato nelle braccia della morte, non si è suicidato, non ha detto no a qualcuno che l'aveva esplicitamente minacciato di morte, non si è gettato in un palazzo in fiamme, ha messo a un potenziale rischio la sua vita, e poi è dovuto intervenire un altro essere umano, libero, cosciente e pensante, a effettuare le minacce a me, portare a termine le minacce che erano state già lanciate e ucciderlo. Il giudice Falcone, però, non si è costretto a morire, non c'era nulla di deterministico. Se una persona si butta in una casa in fiamme, considerato cos'è il fuoco e cos'è un corpo umano, la loro interazione è deterministica, è prevedibile, e quindi tu sai che buttarti in una casa in fiamme significa morire. Anche dire di no al terrorista che ti minaccia col Kalashnikov davanti. È vero, è un essere umano, c'è una libera volontà di mezzo, c'è qualche margine di speranza in più. Tuttavia, il terrorista ha già dichiarato le sue intenzioni, non c'è un beneficio del dubbio. Quindi, davanti al terrorista, con l'arma puntata, o può ravvedersi in quei pochi secondi in cui tu dici no, non rinnegrerò la mia fede, può rimanere commosso, ispirato da questo magnifico, nobile gesto, magari succede, magari cambia idea. Ma è difficile, molto difficile. Quindi, anche l'uccisione da parte del terrorista mi sembra che sia abbastanza deterministica, prevedibile. Quindi, no, se uno si getta nelle braccia della morte, solo per l'idea, per quanto mi riguarda sbaglia, uno che rischia la morte, come un Giovanni Falcone, come un Malcolm X, come un Martin Luther King, che non conoscevano il volto, il nome, il cognome, l'indirizzo di casa dei loro assassini, non sapevano in che giorno sarebbero stati ammazzati, non l'hanno potuto evitare, hanno preso delle precauzioni, andavano in giro con la scorta, cercavano di difendersi, non si sono buttati nelle braccia della morte, non c'era nulla di deterministico, correvano un rischio perché lo correvano ed era anche alto, ne erano coscienti, però non hanno mai deciso di morire, è dovuto intervenire qualcun altro di esterno che loro non potevano prevedere e che anzi hanno cercato di prevenire. Non riuscendoci, questi tre esempi sono piuttosto tragici, però l'idea era quella. Loro non si sono buttati nelle braccia della morte, l'hanno solo rischiata, poi è andata loro male per delle idee. Questo è più comprensibile. Chi si sacrifica solo e soltanto per l'idea, astratta, pura in sé, senza fare del bene a nessun altro, per quanto mi riguarda, sbaglia. Libero di sbagliare, ma sbaglia. E chi enfatizza, chi elogia, chi narra in maniera epica e gloriosa questo genere di sacrifici, lui sì che sbaglia, lui commette un male perché istiga a un sacrificio infruttuoso, inutile, autodistruttivo, a un idealismo ingenuo e suicida. Invece Falcone, Luther King, Malcolm X sono molto più comprensibili. Altro caso, chi si suicida non per un'idea, o meglio sì, c'è sempre un'idea di mezzo, ma per delle vite. Nel senso, caso tipico nei film, lo vediamo di continuo, le persone che sono nella situazione di pericolo, non c'è il cibo, sono rinchiusi in un posto pericoloso, devono attraversare chissà che valle, chissà che perigli. Ci sono le persone che si sacrificano, che si lasciano cadere gloriosamente, con musiche trionfali, increpacci senza fine, persone che sacrificano la propria vita, che si amputano un braccio, che rinunciano alla propria scorta di cibo, rinunciano... Ok, qual è quello il caso? Non è il caso di una persona che muore solo per un'idea. Certo, la persona ha l'idea che la vita degli altri sia importante almeno quanto la propria, se non di più, quindi c'è un'idea di mezzo, ma è una persona che muore, si sacrifica per una vita concreta, immediata, lì tangibile, per i suoi compagni, per i suoi familiari, persone che vengono rapite, una famiglia che viene rapita, tenuta in ostaggio, e uno è un membro di questa famiglia che dice uccidete me, tenete me, ma lasciate gli altri. Ok? Sta salvando delle vite che sono lì, quantificabili, concrete, tangibili, non astratte idee sulle quali ci si potrebbe sbagliare. Sono persone, reali, esistenti, tutto è soggettivo, niente esiste per certo, trilemma della grippa, ma chi se ne frega, persone che abbiamo decisamente la sensazione che esistano. Lì anche quello è un sacrificio che non penso sia dovuto, io non credo nei doveri morali, io non penso che sia dovuto, ma capisco chi lo fa, e non lo biasimo di essere un millantatore, un idealista, un suicida. È una persona che dice, va bene, c'è la mia vita, ci sono altre vite, fosse anche una sola, fossero un milione, decido che la vita di un'altra persona per me conta molto, e quindi sacrifico la mia. Il guadagno, il bene, è tangibile e immediato. Non c'è discussione su questo, non è un dovere. Io posso anche, io voglio, ci tengo a capire, una persona che si trovasse nella situazione di dover sacrificare la propria vita per salvarne 5.000, io voglio capire la persona che non lo facesse, la persona che non se la sentisse. Io non credo che esistano etiche assolute, valori morali, potremmo dire, eh ma una persona, 5.000 persone, non c'è paragone, non è possibile, no, questo qua ha compiuto uno sterminio, è stato complice di un... No, ci sta, abbiamo paura, non tutti siamo eroi, non tutti nasciamo idoli e semi-dei. Le persone hanno emozioni, sentimenti, attaccamento alla vita, istinto di conservazione, inconscio, preconscio, conscio, idee, valori. Bisogna capire tutto e tutti, io non credo che possa esserci un valore morale per cui qualcuno sia tenuto a sacrificarsi per gli altri, anche fossero tantissimi. Però se lo fa, lo capisco, non è tenuto, ma ci sta, non è un sacrificio che io reputo malsano e tossico. Quindi, chi pone a rischio la propria vita ma senza essere certo di morire, senza buttarsi nelle braccia della morte. Chi invece si butta nelle braccia della morte ma per salvare altre vite concrete, tangibili, immediatamente circostanti, va bene, ok, lo capisco. Quello che non capisco appunto è il sacrificio solo e soltanto per l'idea. Qui veniamo a Socrate e Gesù. Gesù di Nazareth, anche lì ho premesso la parte divina, il fatto che lui non stesse morendo, lui fosse il figlio di Dio, addirittura neanche un essere umano che ha un'anima, proprio il figlio di Dio, Dio incarnato, che quindi anche lui sapeva di essere figlio di Dio, è davvero morto, ha sacrificato che cosa? Lui è Dio, sapeva di non morire. Se anche fosse stato un solo uomo, un essere umano semplice e normale, in visione cristiana avrebbe dovuto sapere che tanto c'è l'anima al paradiso, eccetera. A maggior ragione il figlio di Dio sa di non star davvero morendo, sta soffrendo perché ha preso un corpo e quindi può soffrire, ma la sua morte lo sa benissimo che è piuttosto transitoria, piuttosto effimera, diciamo, anche perché lo dicevano sì nei profeti centinaia di anni prima, che lui sarebbe risorto. Lo dicevano i profeti, se non lo sa lui, che è Dio in persona. Però vabbè, diciamo, tolto di mezzo tutta la questione divino, metafisico, poniamo che fosse un essere umano pure e semplice, senza nessun attributo divino. Ma allora è un pirla. Ma allora è un pirla, è un pure e semplice pirla. Scusatemi, eh. E non venitemi a dire che quella di Gesù e quella di Socrate sono resistenza passiva. Sono resistenza pacifica. No, 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 no. Gandhi è resistenza pacifica. Le suffragette chiuse in carcere che fanno lo sciopero della fame sono resistenza passiva. Non Gesù e Socrate. E perché? Per un motivo molto semplice. Perché Gesù e Socrate, di fronte alla situazione in cui si trovavano di essere giudicati da un tribunale ingiusto che li condannava a morte, avrebbero potuto scappare, fuggire, evitare la pena senza far del male a nessuno. Pacifico, ok. Passivo, ok. Sottomesso, succube. No. Chi è succube vive in un mondo dietro al mondo, come direbbe Nice. È un predicatore di morte. Socrate dice, no, per il secondo, terzo paradosso, adesso non sono sicuro, che non può succedere, che non succede male a chi subisce il male, ma a chi lo compie. Che quindi lui, obbedendo a questo giudizio ingiusto della legge, non si sta danneggiando. Questo di nuovo perché lui credeva in cose come l'anima, la reincarnazione, la vita eterna, in forme strane, in razioni ancora un po' immature. Comunque non ben definite da Socrate, però, ma questo non lo sai. Non possiamo basarci su questa cosa, è troppo incerta. C'è chi pensa di sì, chi pensa di no, mezzo mondo dice di sì, mezzo mondo dice di no. Su che basi? Si può predicare un suicidio del genere? Se tu credi, tu puoi anche farlo, perché tu te la senti, ne sei sicuro. Sei sicuro sulla base di nulla? Su cose molto infondate? Pazienza è tuo diritto. Però predicare Socrate o Gesù come dei buoni modelli di sacrificio, perché sono stati intri che hanno obbedito alla legge, al giudizio degli altri, senza sottrarvesi, eccetera, eccetera, è un atto tossico, è un atto che istiga al sacrificio, istiga a un suicidio infruttuoso, perché Socrate e Gesù non hanno il pretesto della resistenza passiva e del pacifismo, perché avrebbero potuto scampare alle loro condanne senza colpo ferire, senza far del male a nessuno, i compagni, gli amici discepoli di Socrate non hanno tramortito le guardie, non hanno ammazzato i secondini per venirlo a salvare, gli hanno dato un po' di soldi, così questi qua si sono allontanati e gli hanno aperto la cella. Socrate sarebbe potuto uscire, camminare, passeggiare in mezzo ad Atene e andarsene sereno, pacifico, tranquillo, senza far del male a nessuno. A cos'è che sentiva di far del male Socrate? Alla propria anima, alla morale e in generale a quello spirito di razionalità da cui emergono lo Stato e le leggi che sono giuste in quanto razionali e che sono razionali in quanto l'ha detto Socrate. Stesso modo Gesù. Gesù non è che avrebbe, dico, scaglia una folgore sui soldati romani, ma ammazzali tutti, sterminali, vendicati di Ponzio Pilato, no, ma non mica sto dicendo questo. Sto dicendo però che Gesù anche lui avrebbe potuto scapparsene, avrebbe potuto fuggire la pena senza far del male a nessuno. Quindi lui non è stato solo pacifista, lui non è stato pacifista, è stato succubo, è stato sottomesso, ha rinunciato alla vita. Io sarò troppo niciano, ma chi rinuncia alla vita, chi predica la morte, per me, è una persona che fa male all'umanità. Inoltre, appunto, i sacrifici di Gesù e di Socrate sono stati infrattuosi perché non hanno salvato altri, non hanno migliorato le condizioni di vita della società, non hanno lottato contro le discriminazioni. Le suffragette, Gandhi, le persone che, chiuse in un carcere, fanno lo sciopero della fame per ottenere dei diritti o per comunque manifestare protesta, non si stanno suicidando così per vizio, per vezzo romantico, decadentista, no, sono persone che stanno già venendo uccise, sono persone che sono chiuse in carcere, che sono sottonutrite, che sono nutrite minimamente, che vengono percosse, che vengono stuprate, che vengono tenute alla fame allo stremo e che quindi, per esempio, con lo sciopero della fame, accelerano, accentuano leggermente un processo che è stato intrapreso da altri. Chi li ha messi in carcere, chi li sta torturando, se viziando, chi li sta uccidendo lentamente, semplicemente si ritrova fra le mani una morte un po' più rapida, è costretto a far fronte alle proprie azioni, a prendersi le proprie responsabilità un po' più velocemente. Perché se tu tieni una persona in carcere per vent'anni, la stai uccidendo. Non è detto che muoia in carcere, può anche morire dopo esserne uscita, ma se sta in carcere vent'anni denutrita e si prende una marea di malattie e rimane senza lavoro e senza soldi e quindi una volta uscito dal carcere senza casa perché gli è stata pignorata, finisce sotto i ponti e si ammala, eccetera, eccetera, e muore a 55 anni, l'ha ucciso il carcere anche se non c'è morto dentro. Quindi, una persona che per esempio in carcere, chiusa in carcere, già maltrattata, se viziata, picchiata, stuprata, tenuta alla fame, una persona che faccia in questa situazione lo sciopero della fame non si sta suicidando. Sta solo dicendo ehi carnefice, guarda che cosa stai facendo. Io accelero il processo, ti impedisco di tenermi in vita, ma in fin di vita, per vent'anni, io piuttosto muoio subito. Così tu sei costretto a fare subito fronte alle tue responsabilità. Sei costretto ad assumertele e a decidere se sei davvero nella posizione di commettere un omicidio, se te la senti di ammazzare qualcuno. Perché appunto, se tu lo stai ammazzando indifferita, nel senso che lo porti in condizioni tali per le quali quantomeno gli accorci la vita di vent'anni, gli accorci la vita e in generale gliela rovini, puoi anche non vederlo, perché tanto una volta uscito dal carcere il tuo prigioniero non lo vedrai più, chissà dove finisce, chissà dove... te ne lavi le mani. Parlavamo già di Pilato. Se invece questo prigioniero aggrava leggerissimamente la sua situazione che già tu gli stai infliggendo, ti porta a dover far fronte, a dover raffrontarti con le tue responsabilità e ti dice ehi, guarda che tu mi stai uccidendo. Non ti lascio il tempo di dimenticartene, di dire sì ma non sono stato solo io, è stato un po' tutto il sistema, un po' tutti, di qua di là. No, chi fa lo sciopero della fame ti dice ehi, guardami, sto morendo, grazie a te. Quindi no, quello è un sacrificio che va bene, nel senso si può fare e non fare, ma non penso che dia un'idea tossica e epica e gloriosa del sacrificio e comunque un sacrificio che spesso può avere un'utilità sociale, politica. Le suffragette Gandhi hanno lottato per persone reali, per situazioni economiche, sociali, politiche, eccetera, eccetera. Niente, sono sfinito. Io non lo so. In Italia oggigiorno si parla tantissimo senza dirlo, cioè sotto testo di sacrificio si ritiene che la nazione, il bene degli altri, il bene di non so chi, di quale ideale, il valore della famiglia, delle cose, sia sempre importantissimo e che sia legittimo fare sacrifici per queste alte idee. Io non penso che sia così, però smentitemi. Certo non mi ammazzerò per questo, non mi ammazzerò per le mie idee se anche dovessi scoprire che sono sbagliate. grazie a tutti.